pace bene cari fratelli e sorelle bentrovati questa domenica continua la cosiddetta giornata di gesù a cafarnao gesù nella sinagoga ha predicato e liberato un indemoniato ora va nella casa di pietro dove guarisce la suocera quindi sul far della sera libera indemoniati guarisce altri malati l'indomani mattina presto si ritira in preghiera per poi continuare il suo cammino di evangelizzazione in altri villaggi e città da questo testo vogliamo cogliere due punti importanti per diventare persone libere e liberanti prendersi cura e pregare gesù passa dalla sinagoga alla casa di pietro lì vi era la suocera a letto con la febbre i discepoli gli parlano di lei ecco miei cari in semplicità cosa è la preghiera di intercessione e parlare a gesù presentare al buon dio le sofferenze degli altri i bisogni delle persone vicine o lontane a volte ci troviamo a contatto con situazioni umanamente devastanti dolorosissime davanti alle quali ci sentiamo impotenti è vero ma possiamo poggiarci sulla potenza di dio fidarci di lui bussare al suo cuore in favore di quella persona certi che non è indifferente al suo dolore e al nostro atto d'amore ora i discepoli parlano di lei a gesù e gesù cosa fa marco ci consegna dei verbi che ci aiutano a capire cosa significa prendersi cura gesù si avvicina la prende per mano e la fa alzare questi verbi ci dicono anzitutto ciò che gesù ha fatto per lei e ciò che in fondo dio fa per ciascuno di noi nostro signore si fa vicino non è lontano gesù si fa vicino a te perché ti ha a cuore conosce il tuo dolore fisico o interiore non gli è indifferente egli si fa vicino specialmente nel momento della sofferenza della prova noi a volte pensiamo che siano segno della sua assenza possiamo invece scoprire che sono i luoghi di una sua più vicina e tenera presenza ecco gesù si avvicina e la prende per mano il signore cioè viene a prendere contatto con noi e lo fa con tenerezza e lo fa nella misura in cui glielo permettiamo ci lasciamo prendere per mano da lui quando ci affidiamo con fiducia a lui nella priera ci lasciamo toccare da lui soprattutto quando riceviamo i sacramenti ecco lui viene per prendere contatto reale con ciascuno di noi con la nostra sofferenza e viene per rialzarci qui abbiamo addirittura il verbo della risurrezione oltre al fatto in sé questo vuol farci capire che il senso del miracolo è molto profondo riassume in maniera plastica la salvezza operata da gesù venuto a prendere per mano l'umanità per risollevarla dalla morte e renderla capace di amare il signore viene per liberare la nostra vita da tutto ciò che puzza di morte pensate questa donna era lì bloccata a letto con la febbre e una volta guarita cominciò a servirli ecco accogliere il signore e la vera guarigione si manifesta nel fatto che non pensi a te ma ti doni agli altri ciascuno di noi potrebbe chiedersi il signore da cosa vorrebbe rialzarmi cosa potrebbe rappresentare per me questa febbre forse quel latente egoismo che mi porta a ripiegarmi un po troppo su di me e a non avere occhi e cuore per gli altri o forse potrebbe essere il mio vittimismo tendo a piangermi addosso e perdo così tante occasioni belle perdonarmi oppure potrebbero essere i miei sensi di colpa che mi inchiodano al passato ecco il signore viene per tirarti su per rialzarti per farti sentire il suo amore ricordandoti che non c'è peccato che non possa essere perdonato che non c'è ferita che non possa essere guarita o quantomeno illuminata dalla sua grazia diventando così feritoia di luce che nelle sue mani le situazioni difficili sofferte possono diventare gemme preziose che possono aiutarti a capire a compatire gli altri ad amare di più le persone che incontrerai dio non butta via nulla della tua storia allora non aver paura di lasciarti prendere per mano da lui di lasciarti rialzare forse il signore per farlo vorrà servirsi di qualcuno perché il suo amore è anche mediato dalle persone che abbiamo accanto allora questo cosa mi chiederà non aver paura di lasciarmi aiutare sì perché a volte è più facile aiutare che lasciarsi aiutare san giovanni paolo secondo ad esempio diceva che c'è la carità di chi si prende cura di un ammalato ma c'è anche la carità di un ammalato che lascia che gli altri si prendano cura di lui noi a volte in questo abbiamo difficoltà pretendiamo di farcela da soli fatichiamo a chiedere aiuto ad ammettere che abbiamo bisogno dell'altro qui si tratta di riconciliarci con il nostro limite di riscoprire che siamo fatti per la relazione che abbiamo bisogno gli uni degli altri si tratta in fondo di ripartire dall'umiltà ora miei cari il signore vuol prendersi cura di noi perché anche noi a nostra volta possiamo diventare sempre più capaci di prenderci cura degli altri e allora questi verbi che abbiamo visto diventano un bellissimo percorso da vivere giorno dopo giorno e allora quando veniamo a contatto con situazioni difficili anzitutto c'è da avvicinarsi e allora miei cari quando veniamo a contatto con situazioni difficili o sappiamo che qualcuno ha bisogno o ha una difficoltà anzitutto c'è da avvicinarsi noi a volte tendiamo a stare un passo indietro della serie mi coinvolgo sì ma non troppo oppure aspettiamo che siano gli altri a fare il primo passo oppure addirittura a scansare completamente l'altro e il suo bisogno a volte semplicemente ci blocca l'imbarazzo non sappiamo cosa dire altre volte non riusciamo a empatizzare con la persona che soffre e magari banalizziamo quanto vive la prima cosa che gesù ci insegna è avvicinarsi andare incontro farmi vicino a quella persona ad iniziare da chi abbiamo accanto in famiglia nella comunità nel presbiterio per poi passare al collega all'amico al povero che incontro per la strada ecco andare incontro avvicinarsi e poi e poi prendere per mano significa far sentire una vicinanza concreta il mio esserci far sentire a quella persona che mi sta a cuore come avrebbe detto don lorenzo milani questo praticamente potrà poi significare un aiuto concreto una parola di conforto oppure prendere per mano significherà accompagnare quella persona nel tempo sostenendola in ciò che deve affrontare potrà essere un momento di sconforto o una svolta importante per la sua vita una situazione di precarietà a livello materiale una malattia che deve affrontare insomma un aiuto che si non si può fare in modo da nel tempo per aiutarla a reintegrarsi a rialzarsi dalla condizione nella quale si trova per aiutarla ad affrontare al meglio questa tappa del suo cammino verso il cielo allora miei cari davanti a tutto questo potremmo chiederci ma io so farmi vicino a chi soffre prendo realmente contatto con i problemi delle persone cerco di prendere per mano di accompagnare di rialzare l'altro cerco di fare di tutto perché le persone che ho accanto possano sentirsi volute bene crescere e servire liberamente ora miei cari il secondo punto che vediamo brevemente e che il vangelo ci consegna è la preghiera l'evangelista marco ci consegna una sorta di segreto di gesù alzatosi di buon mattino si ritira da solo sul monte in preghiera nostro signore inizia le sue giornate coltivando una lunga intimità con il padre madre teresa diceva che la preghiera è la linfa vitale dell'unione con cristo ed è indispensabile all'anima come il respiro lo è per il corpo non è sufficiente pregare con generosità occorre pregare con fede devozione e fervore la preghiera dilata l'anima e la rende capace di accogliere dio stesso se non preghiamo la nostra presenza e le nostre parole non avranno alcun potere abbiamo bisogno della preghiera per svolgere meglio l'opera di dio e per sapere in ogni momento come dobbiamo essere disponibili a lui miei cari se gesù vero uomo e vero dio il figlio di dio prima di iniziare le sue giornate stava tanto tempo in preghiera forse noi possiamo farne a meno e la preghiera che permette a dio di cambiare il nostro cuore che ci pacifica che dilata gli spazi dell'anima e ci rende capaci di accogliere dio e di amare ecco perché come vi racconto spesso quando il cardinale comastri allora giovane seminarista incontrò madre teresa e le chiese madre mi dice una parola rimase spiazzato al sentire madre teresa chiedergli figlio mio quante ore preghi al giorno le rispose madre ma io pensavo mi dicesse una parola sulla carità sui poveri e madre teresa con tenerezza stringendogli le mani gli disse figlio mio io sono solo una povera donna che prega prego e il signore mi mette nel cuore il suo amore per amare i poveri noi siamo troppo poveri per poterli amare miei cari nessuno può dare ciò che non ha potremo dare amore se per primi abbiamo in noi quest'amore che è lo spirito stesso di dio la sua dolce presenza in noi alla quale possiamo attingere innanzitutto pregando cari fratelli e sorelle che il signore ci aiuti a riscoprire l'importanza della cura ricevuta e donata e che ci aiuti a riscoprire sempre più il gusto della preghiera allora sì che con il suo aiuto potremo diventare sempre più persone libere e liberanti sui veri figli che diffondono nel mondo il profumo della sua vita santa che il vi benedica pace e bene a tutti